Ciao sono Paolo di Backpacko e anche oggi ho un pacco di novità. Benvenuti al Barpacko, l'appuntamento settimanale del venerdì mattina dove facciamo colazione insieme dove guardiamo i nuovi prodotti, le iniziative e le offerte di Backpacko. Prima di cominciare con tutti i prodotti che vedete qui, lo sapete, ho già in mano il mostro. Avete visto il video? Questo è il coltellone che abbiamo disegnato insieme a Dario Trifelli e l'orso dei lunghi coltelli ed è pronto. Per chi non sapesse di cosa sto parlando, ecco il trailer dell'ultima puntata. Ciao sono Paolo di Backpacko e oggi è Blade in Italy, la colpa ovviamente dell'orso dei lunghi coltelli che ha deciso di andare in vacanza in Africa. Sto specchio non l'ha mai visto, è una faccia più bella o qualcuno arriva in ritardo a volte e dice ma sai aspetta aspetta, potete farlo più? Ormai il treno è partito. Eccolo! Escaziburk! È veramente, è veramente un gran coltello. Andiamo a me le mani dal culo però. Beh, guardiamocelo un'altra volta, il frutto del Blade in Italy, il coltello che ancora non ha un nome ma ha mille talenti. Fodero in Kydex con l'appoggio per il pollice, guardate che meraviglia. Ragazzi, io continuo a riguardarmelo, ve lo voglio mostrare in tutto il suo splendore. Lo vedete da soli, guardate la raggiatura del manico che qui si vede bene, meglio forse di come l'abbiamo visto nel laboratorio di Dario mentre registravamo il Blade in Italy. Guardate la potenza fatta coltello. Ha il logo di Dario Trifelli, Neandertart, che ha fatto fisicamente il coltello. Qui c'è anche quello dell'orso dai lunghi coltelli che ci ha dato una mano con il caffè. Ciao orso! E il logo di Backpack. Dovreste riuscire a vederli, anzi ve lo faccio vedere tutto così da vicino. Spero, guardate che bello! È talmente bello, è talmente fatto bene, fatto con amore, che io questo non lo userò. Questo esemplare specifico, questo coltellone qui, rimarrà a far parte del Barpack. Dovrò trovare un bel modo per appenderlo, ma lo voglio assolutamente sempre con noi. Come sapete adesso, ad oggi, non ha ancora un nome. Dovete aiutarci a scegliere tra Brunhilde, che ha proposto l'orso dai lunghi coltelli, Salomone, che è quello che ha proposto Dario Trifelli, e Il Ben Servito, che è quello che ho proposto io. Per scegliere il nome dovete andare sul video del coltello, vi lascio il link in descrizione sulla puntata numero 3 del Blade in Italy, e scrivere sotto i commenti quale tra questi nomi vi piacerebbe adottare per la bestia. Questo esemplare specifico io non lo userò, però Dario me ne ha già fatto un altro, che è quello che invece riserveremo al test nel bosco, dove studieremo insieme le performance della geometria, della manicatura, dei materiali. Ovviamente, dotazione Backpack, questo è il mio, quindi c'è il mio eccellino di Exotac, ma poi tutti i dettagli su come questo coltello sarà distribuito, sugli accessori che verranno forniti insieme, e come appunto ordinarlo, acquistarlo, beh, li avremo dopo il test definitivo, perché il prodotto arriva su Backpack solo dopo il test definitivo. Vi rimando al Blade in Italy 3 che trovate qui sotto. E godetevi nei dettagli la discussione su questo progetto. Grazie Dario, grazie Simone, l'orso dai lunghi coltelli, abbiamo fatto un coltello bellissimo, è stupendo, è rogapotenza questo. E arriva su Backpack un altro prodotto di Savotta. È un accessorio per gli zaini che va benissimo anche in cintura, ottimo, anzi direi indispensabile per quelli tra di voi che amano portare le borracce di tipo militare. queste un po' a fiaschetta, diciamo, per capirci. È appunto una porta borracce. Classica costruzione di Savotta, super tosto che neanche ve lo posso descrivere. Sistema compatibile con il molle, questo è, sono le fascette molle che si agganciano allo zaino oppure al cinturone, o dove vi fa più comodo e vediamo com'è fatto. La clip deve essere di sicurezza, è una clip di sicurezza ma anche facilmente accessibile, con i guanti, con le mani fredde, intorpidite. Infatti questa linguetta è molto generosa, ha un cursore, ma se io non sblocco la chiusura, state certi che questa non la apro e posso fare tutte le capriole del mondo, ma non perdo l'acqua. Per aprirla basta tirare la linguetta e si libera. Ve la faccio vedere un attimo al rallentatore questa cosa, perché si mette la prima linguetta, si blocca la sicura e rimane chiusa la tasca. Se però devo aprirla, tiro questo, che succede? Si libera prima la linguetta, poi si slaccia. Ora io l'ho fatto con calma per mostrarlo, ma basta tirare ed ecco qui. Costruzione Savotta, quindi nylon super tosto, leggendario, strato protettivo anche per l'umidità o per la pioggia, che male non fa. Ci ho sistemato una borraccia di tipo militare in acciaio, di cui ho perso ovviamente la gavetta. Ok, siccome questo è un prodotto effettivamente studiato per l'esercito finlandese, come tante delle cose che fa Savotta, ha questo taschino un po' particolare qui, potreste chiedervi a che serve. Questo taschino, che ha sia una chiusura, che una sicura all'interno in vefro, eccola qui, serve per una cosa abbastanza particolare. Beh, per un tappo compatibile con la borraccia e le maschere antigas. Va bene, quello che ci sistemo io qui dentro, di solito è magari quello che mi può servire in più per gestire il fornello, per gestire il fuoco. Quindi ho un accendino, tanto si chiude tutto abbastanza bene, oppure un sacchetto con dentro l'accendino, un po' di pasticche per potabilizzare l'acqua, che fanno schifo, ma quando servono, servono. Per estrarre la gavetta, come la tradizione per questo tipo di tasche, il migliore sistema è spingerla da sotto. Eccola qui, la vostra gavetta, assolutamente pronta per il fuoco e per prepararci un tè. Quindi porta borraccia di tipo classico, di Savotta, ottimo per le nostre uscite in stile bushcraft militare, o per tutti quelli di voi che vogliono portare al fianco, sulla schiena, sui fianchi, di lato, una di queste borracce, magari sono più ergonomiche, di una borraccia classica, di Nalgine, che è cilindrica e magari in prima linea potrebbe dare fastidio. Detto questo, andiamo avanti. E abbiamo appena finito di cucinare per le feste. Oggi è probabilmente l'ultima festa, l'ultimo weekend di festa, dove si mangia tantissimo, almeno per un po'. Per me sicuramente, visto che inizierò a mettermi a dieta nel modo più assoluto, beh, comunque posso cucinare delle ottime preparazioni dietetiche anche sulle nuove padelle di Petromax. Sono padelle in ghisa, sono fantastiche, ci sono di tante dimensioni e mi sentite sforzarmi perché effettivamente pesano, ma il peso è dato dallo spessore della ghisa. Questo tipo di padella potete utilizzarla sul fuoco, potete utilizzarla sulle braci, sui carboni, nel barbecue, in forno, ci fanno i dolci, ci fanno il fritto, ci fanno i risotti, tutto ragazzi. Ottima l'ergonomia perché una volta che l'ho presa con dei guanti, se è calda, mi sembra logico, io posso utilizzare la maniglia di occhiellata che si trova da questa parte per versare il contenuto sui piatti, nelle gavette, se mi trovo al campo. La serie si chiama FP di Petromax, la trovate su backpacko.it, in tutte le misure disponibili. Guardatevi bene le caratteristiche, non lasciatevi ingannare da altri produttori che magari fanno sì padelle di ghisa, però molto sottile. La ghisa vi offre un grande vantaggio in cottura, se è sufficientemente spessa, da riscaldarsi in modo omogeneo, fatta bene, senza clicchi all'interno, e soprattutto diffondere il calore. Ragazzi, Petromax ha fatto un'altra opera d'arte, e la trovate su backpacko.it. Beh, sapete cosa? Presto ci facciamo un grill pacco, magari dietetico, magari solo petto di pollo e broccoli, però lo facciamo con queste fantastiche padelle. Oppure guarderò mio fratello cucinare, e basta, vi racconterò com'è. Ma oggi è anche patch edì, e torna Ellie Contex con un'altra patch della sua serie favolosa per Artman, l'uomo barbuto che stavolta è in missione in giungla. Si è truccato il volto, ha indossato un bunny, dietro di lui due bellissimi coltelli tipo cabarra, è pronto per ogni missione. Ecco un altro Birdman disponibile su backpacko.it. Ed ecco Maxpedition, di nuovo al barpacco, di nuovo con un prodotto fantastico, della serie Legacy. Questa cosa la devo un po' spiegare, ogni tanto dimentico di farlo. Maxpedition ha diverse serie, alcuni prodotti che vi ho presentato sono della serie Legacy, e quindi fatti diciamo in modo classico, tosto, nylon, eccetera. Altri sono della serie AGR, Advanced Gear Research. Quello che cambia è un po' la struttura del prodotto e i materiali utilizzati. Oggi siamo di fronte ad un prodotto della serie Legacy, quindi sistema classico, Maxpedition, tostissimo, uno dei prodotti che ha reso famoso questo marchio. L'avrete notato, è un IFAC. Ok, io l'ho riempito per guardare un po' come ci stanno le cose, perché penso che sia uno degli IFAC meglio organizzabili. Per le sue dimensioni riuscite a sistemarci sia i presidi dedicati all'intervento sui traumi, che quelli per le piccole ferite che giocando con i coltelli, giocando nel bosco, poi non mancano mai. Giro un attimo veloce maniglia fantastica. Maniglia antiscivolo fantastica. Vi fa sentire dei duri solo quando la afferrate e avete voglia di correre da qualcuno e aggiustarlo in questo modo. Ve lo garantisco. Io ci ho sistemato al lato la mia forbice X-Shear, che ho bloccato con un moschettone. Uso un moschettone grande della Petzl, ma semplicemente perché poi al campo lo uso ancora per sistemare gli stivali all'amaca o lo zaino appeso. Potrei, visto che qui ho comunque un pannello Pulse compatibile con gli accessori molle, potrei sistemare un fodero molle da questo lato, da questo lato, dove voglio. Però non lo faccio perché semplicemente la forbice così occupa meno spazio e sta lì dove deve stare. X-Shear. Ah, a proposito, queste sono disponibili sempre su backpack.it. Vi lascio il link in descrizione. Sono le forbici da soccorso, quelle vere, quelle che usano i soccoritori davvero negli Stati Uniti. X-Shear. Stupende, tra l'altro. Sul davanti non poteva mancare il tourniquet. Avendo un elastico qui a disposizione, io solitamente lo metto così perché in caso di emergenza, se ne avessi bisogno, se strappo velocemente, con forza, viene via e lo libero. Qui abbiamo un pannello velcro per sistemarci, come ho fatto in questo caso, una patch identificativa del primo soccorso oppure, se volete, una patch fosforescente che vi permette di ritrovarlo al buio o la lucina qui, se vi va, potete montarla senza problemi. Di lato, altra pannellatura molle. Io ci ho sistemato un pennarello Sharpie utilissimo per compilare questa parte del tourniquet perché quando si applica un tourniquet vuol dire che poi bisogna anche segnalare l'orario. Beh, per imparare queste cose però ci sono i corsi, non io su YouTube, sicuramente non sono adatto. Ma un pennarello accompagna spesso un tourniquet. Qui troviamo anche due anelli D-ring, si chiamano, sono a forma di D. Sono tostissimi per eventualmente applicare altri accessori o agganciare questa con un moschettone. Sul retro arriva in questo modo, c'è un pannello pulse. È compatibile con il sistema molle ma per agganciarlo agli zaini vi servirà un accessorio che non arriva insieme al prodotto ma lo trovate su backpacko.it sempre sulla pagina dei prodotti della linea Legacy. Sono dei passanti in plastica che si vanno a far passare in qualche modo qui e ovviamente dall'altra parte nello zaino oppure il contrario. Ve li sistemate come vi pare. La cosa buona è che una volta sganciati, se tirate forte, vi liberano il kit medico e potete portarlo dal ferito, nella zona in cui vi serve, senza dovervi portare per forza tutto lo zaino che magari pesa ed è ingombrante. Zip YKK che sono un amore belle grosse e toste, ma anche l'apertura, perché non c'è niente di peggio di avere un iFAC e poi non riuscire ad aprirlo quando serve. Come vedete l'ho aperto e rimane in questo modo perché ha un'apertura a conchiglia regolabile attraverso questo cordino di tensionamento. Ovviamente se lo rimuovete o se lo regolate diversamente, quando la aprirete si aprirà in questo modo. Ecco, una cosa che mi piace davvero tanto di questo iFAC è che ti permette di portare sia gli oggetti indispensabili per la gestione dei traumi importanti, quindi la gestione delle emorragie, delle perforazioni, degli shock anafilattici. Insomma, tutte quelle cose dove bisogna intervenire in secondi, non in minuti. Ecco, queste le abbiamo a disposizione. Una benda israeliana che è di quelle grandi. Altri bendaggi per zaffature, come vedete, ci sta di tutto. Se invece preferite portare le bende, quelle arrotolate, anche quelle trovano posto doppio elastico. Guardate quanto è grosso questo elastico, quanto è tosto. Non bisogna mai dimenticare la gestione delle emorragie con il Celox, così come i chest seal, i cerottoni per lo pneumoteorace. E non devo neanche dirlo la epipen per gli shock anafilattici. Queste cose le devo trovare immediatamente nell'iFAC. Non è negoziabile questo, non ho minuti, non ho secondi da perdere. Devo trovarle e quindi voglio un iFAC che mi permetta, voglio una pouch, che mi permetta di trovare i presidi salvavita. Li voglio a disposizione. Ho una torcia che può essere utile sempre per guardare meglio quello che succede. Qui trova posto un bisturi, ma solo per farvi vedere quanto anche le piccole cose, i piccoli oggetti, si vanno a collocare in un sistema fatto bene, pensato bene per gli elastici. I compid per i piedini delicati. Guanti da officina, quelli tosti per maneggiare le ferite nel bosco. E qui ci sarebbe anche un gancetto per eventualmente sistemare qualcosa. Da quest'altro lato trovate un taschino con la cerniera e io ci ho messo delle salviette, quello che mi pare. Una cosa bella di queste pouch, quando sono fatte bene, è che vi permettono di allocare tutto. Guardate quanti elastici, guardate che elastico enorme. Qui ci puoi sistemare tutto. Taschino retinato. E tutto estremamente solido. Se io mi mettessi adesso che voglio romperla questa, mi rompo io, statene certi. Ecco, la cosa interessante di questo tipo di pouch, vi dicevo, è che vi permettono la massima personalizzazione. Quindi Maxpedition FR1, disponibile su Backpack.it in un sacco di colori. Questo è il loro khaki, il sand, o come mi piace chiamarlo. Il verde o di green dovrebbe essere black, foliage green, se non sbaglio, e anche il grey wolf. C'è anche rossa, ma quella arriverà in un secondo momento. Quindi gli altri dettagli su questo prodotto poi li trovate sulla pagina dedicata, che vi lascio in descrizione. Ma se dovesse capitare un problema in natura e non abbiamo il fatto apposta, come possiamo risolverlo? Beh, ci aiuta il nostro integratore di sicurezza con un'altra pillola di Medpacco. A te la linea, Daniele. E voi, come fermereste una piccola emorragia in mezzo alla natura? Qui davanti a noi abbiamo della Plantago Lanziolato, ovvero sia della piantaggine. Ha diverse proprietà antinfiammatorie, antibatteriche, antitussive ed espettorante. Parliamo ovviamente di antinfiammatorio per l'apparato respiratorio, ma a noi interessa un'altra cosa. Come potremmo eventualmente fermare una piccola emorragia quando la fossimo in mezzo al niente? Tra le altre cose, siamo davanti alla bellissima rocca di Respampani. Per poterla adoperare come emostatico, prima ovviamente diamo una bella sciacquatina. Dopodiché la dovrò masticare e una volta ridotta in poltiglia, adoperò questa poltiglia direttamente sulla piccola ferita. Ah, è commestibile. Ci possono fare anche insalate, anche se il sapore è leggermente amarognolo. Ecco come si presenta la piantaggine lanziolata. E come sempre, be ready, stay safe. Bene, anche per oggi è tutto. Io vi ringrazio per essere stati con me. Vi ringrazio perché preferite Backpacko. Se non volete perdervi neanche una delle prossime puntate, beh, iscrivetevi al canale, schiacciate sulla campanella e riceverete una notifica ogni volta che è pronto un nuovo video. E se il video vi è piaciuto, condividetelo con gli amici, condividetelo sui vostri social. Facciamo crescere la community di Backpacko per diventare sempre migliori. Alla prossima! Alla prossima!